Annalisa e Marcello Carrino, proprietari dello storico stabilimento Lido Sun Bay, quest'anno hanno predisposto una serie di servizi per i loro ospiti. Di che cosa si tratta? Abbiamo dei corsi di scuola di vela, dedicati sia agli adolescenti e ai ragazzi che agli adulti, con laser, optimist, ma abbiamo anche dei corsi di windsurf e dei corsi tenuti dalla scuola di sub. In più abbiamo anche un'iniziativa che è molto interessante ed è un corso di BLSD, un corso di primo soccorso con defibrillatore che si terrà qui il 18 di questo mese, il 18 agosto. Perfetto, per avere informazioni cosa bisogna fare? Intanto basta venire qui allo stabilimento oppure chiamare 099 733 1448 oppure un mobile che è il 347 110 7065. Ragazzi, buon lavoro. Grazie.